Ci troviamo a Cene presso il circolo Insieme per Cene e siamo in compagnia del capogruppo in consiglio comunale della lista Insieme per Cene, capogruppo di minoranza. Due parole su questa sede che è nuova. Questa sede è stata inaugurata il 25 di ottobre di quest'anno, quindi da pochissimo tempo. È nata dalla collaborazione di alcuni amici che hanno avuto lo scopo di fornire una serie di servizi alla popolazione per dimostrare che è possibile ridurre la distanza che c'è fra amministratori e cittadinanza. Abbiamo messo in atto alcune iniziative di carattere culturale, quale per esempio l'assemblaggio dei computer, quali per esempio fornire alla popolazione lezioni di matematica, lezioni di latino, lezioni di inglese. Abbiamo anche messo in atto delle iniziative nel campo ricreativo che sono state molto apprezzate al punto tale che abbiamo dovuto raddoppiare i corsi che abbiamo tenuto per esempio nell'ambito delle lezioni di decorazione delle torte. Poi abbiamo fatto decorazioni natalizie proprio approfittando del periodo natalizio in cui stiamo trascorrendo. Abbiamo anche poi delle iniziative legate alla persona, fra le quali diamo delle consulenze gratuite e legali con i legali che fanno parte del nostro circolo e abbiamo in mente anche altre iniziative di proseguire con quelle in atto perché ci sono state richieste e mettere in atto poi di nuove, sia nel campo culturale che nel campo della persona, quali per esempio vogliamo fare la giornata del controllo del colesterolo e del diabete per le persone che vorranno provare. Abbiamo in mente nel campo culturale di fare l'iniziativa di andare a vedere la mostra di Van Gogh presso il Palazzo Reale di Milano e di preparare questa visita con dei corsi apposta nella nostra sede. Generalmente Correnti, vedo che qui presso la sede del circolo trova spazio anche una serie di piccoli presepi molto interessanti. Due parole. Questi presepi ci sono stati forniti da varie associazioni, ci sono stati forniti da collezioni private e noi li abbiamo messi in atto, li abbiamo portati nella nostra sede durante il corso dell'iniziativa del Magico Natale che come sapete qui in Cene è abbastanza sentito e ormai diventa una manifestazione che è sentita un po' in tutta la valle seriana. Quindi il nostro circolo ha voluto offrire alla popolazione di Cene un'esposizione legata ai presepi perché come sappiamo tutti il presepi è una tradizione tipicamente nostra, mediterranea. La particolarità di questi presepi è che provengono non solo da tutta Italia ma provengono anche da varie parti del mondo per cui vengono dal Sud America, vengono dai paesi anche nordici dell'Europa e sono molto diversi fra di loro però il significato chiaramente è sempre lo stesso che il significato della Natività. Sono stati molto apprezzati perché abbiamo avuto la presenza di centinaia di persone in questi giorni che abbiamo aperto la sede e proprio per questo motivo abbiamo in mente di aprire ancora la sede nonostante che il Magico Natale sia finito sia nella giornata di sabato mattina che nella giornata di domenica mattina per dare l'opportunità ai cittadini di poter apprezzare questa manifestazione. Io volevo approfittare della vostra presenza per fare gli auguri di buon anno a tutti i nostri soci che sono numerosi nonostante abbiamo aperto solo da un paio di mesi e alla popolazione di Cene e a tutti i telespettatori di Antenna 2.